Allora, qua abbiamo mio padre Marcello del Giudice, un attimino scusate che sono un po' emozionata, mi viene un po' così presentare mio padre così. Qua abbiamo Nino, che ci tengo a dirlo, è la sua prima esperienza live, però ci teniamo a ringraziarlo tanto. Ci vogliono bene, ci vogliono bene, ringraziamo tanto Nino perché ha contribuito tanto alla riuscita di questa serata e come sappiamo appunto la musica ci lega. Qua abbiamo un tecnico che adesso è diventato anche musicista, quindi ora li sentiamo. Franco, buonasera, ci vuoi dire qualcosa? Sei pronto? Niente, lui è pronto, lui è pronto. Vai con le percussioni. Che è successo? Che problema c'è? Allora, nel frattempo che si sistemano, io vi dico che cosa canteremo, perché chiamo anche mia zia Giovanna, perché adesso dobbiamo fare le coriste stasera. Mio padre, che mi ricordo dei frutti della nuova stagione, ci canterà due canzoni che ha scritto lui, fra le tante che ha scritto. Vento caldo e bambola, che io non lo so, a chi le dedichi qua? Il microfono? Ovviamente tutte le bellissime bambole che abbiamo qui giù dal palco. Anzi, a me non vorranno ancora scritte canzoni, capito? A voi sì. Ovviamente a tutti, eh. Anzi, vi chiedo un supporto. Quando sentirete la frase bambola, bambola, fateci da supporto e dateci un po' di aiuto, ok? Quando sentite bambola, anche voi bambola. Pronti ragazzi, pronti? Corra, apriamo anche il uno. Sì, ok. Respirando pulita, quell'aria d'estate, la tua mente giocava con mille pensieri. E il fatto di essere tanto natura, vivi così la tua libertà. Quel vento caldo, che ti bagnare l'amma, quel vento caldo, che ti bagnare i cigli, quel vento caldo, che ti bagnare l'amma, quel vento caldo, che ti bagnare l'amma, quel vento caldo, che ti bagnare i cigli, quel vento caldo, che il cuore ruffendo segnerà. I zetteri sereni, che ti bagnare l'amma, quel vento caldo, che ti bagnare i cigli, che ti bagnare i cigli, che ti bagnare i cigli, quel vento caldo, che ti bagnare i cigli, che ti bagnare i cigli, che ti bagnare i cigli, che ti bagnare i cigli,